ciao a tutti ciao a tutte state guardando mario giordano il grande mario superstar e perché questa diretta al volo mentre mentre va in onda mario giordano per rompere mille scatole e sorridere mi stanno arrivando i messaggi da diversi amici l'ultimo della lala che mi dice robbie hai visto l'apertura di fuori dal coro che ha fatto vedere fedez qual è il vero fedez com'è il vero fedez il pidino fedez che vorrei ricordarlo che è il pidino fedez devo ammettere che dopo questo servizio di mario giordano ha preso cose che non conoscevo alcune sì alcune no e ho capito che fedez è finito a livello artistico a livello umano a livello sociale a livello qualsiasi livello e è completamente stato demolito da mario giordano fedez mi dispiace fedez io fossi fedez non ribatterei sinceramente amici amiche se fossi in fedez eviterei di ribattere perché dopo questa demolita televisiva a fedez com'è nel stare zitto per altri 30 40 anni 30 40 anni proprio l'ideale sarebbe 30 30 40 anni per poi magari riparlare dopo ma zitto proprio in generale fedez mi dispiace per lui amici mi dispiace per lui e quindi adesso sto guardando fuori dal coro parleranno anche della meloni oggi della figura che ci ha fatto fare la meloni no che è andata a parlare per noi italiani per me no per me no e stanno parlando adesso di ladri di casa questa altra cosa qua terribile hanno parlato del 110 per cento che metterà sta mettendo nella merda metà italia insomma cose molto interessanti e mario giordano ha detto io non parlerò di fedez in verità ha fatto un servizio su fedez è partito con servizio su fedez però l'ha totalmente demolito state seguendo amiche fatemi capire che state seguendo col pollicione se anche voi siete state sorridendo per quello che ha fatto mario giordano perché ha veramente demolito per sempre stata la demolizione e senza ricostruzione proprio demolizione basta e c'è un bel prato al posto delle al posto della casa artistica di fedez veramente demolito veramente demolito grande mare giordano ciao robin giordano è stato un grande come sempre fedez se ne è messo in tasca anna chiara i vostri parelli mi fanno sempre sorridere non ha parlato neanche per me acquari riferimento la meloni si la meloni amici l'ho scritto prima per me non ha parlato oggi per me a mio nome io mi dissocio totalmente da quello che ha fatto e detto la meloni perché la pace si guadagna in altro modo non mandando armi detto questo vi voglio bene vi lascio guardare fuori dal corda sta parlando dei ladri di casa un'altra piaga incredibile c'è solo in italia ragazzi solo in italia la cosa del genere veramente siamo un paese balordo siamo veramente un paese balordo e gestito in modo sbagliato gestito da da anni e anni in modo sbagliato dal pd che ha fatto disastri al centro destra che mio parere non sta facendo meglio di quello che ha fatto i cinque stelle quindi insomma non ce n'è uno che sape fare le cose giuste purtroppo però abbiamo questi quindi o diventiamo tutti anarchici o ci teniamo questi avete visto anche putin quello che ha detto putin putin ha parlato di cristianità parlato di valori cristiani parlato della famiglia parlato di cose diciamo che c'entrano poco in verità con la guerra perché non penso che la guerra l'abbia fatta perché e in in europa e nel mondo occidentale i valori stiano andando a ramengo i valori stanno andando a ramengo però questo è vero su quello li do ragione non è però non ritengo che la guerra sia dovuta quello la guerra è dovuta anni di guerra che si fanno con i due paesi detto questo vi voglio bene e mi dispiace un po per fedez perché francamente se io fossi al suo posto avrei 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 un po di vergogna andare in giro per strada e farmi riconoscere perché è stato veramente totalmente e definitivamente demolito da super mario giordano numero uno quindi anche voi vedo che milena in tanti scrivete che anche voi vi dissociate da vi dissociate dalla meloni di oggi assolutamente io mi ho detto che oggi mi dissocio da quello che ha detto poi in altre cose non mi dissocio in questa in quello che ha fatto anche perché c'è gente amici parliamo chiaramente amiche c'è gente in italia che vive ancora in roulotte vive ancora nei container dopo anni di terremoto c'è gente che non ha la casa gente che non ha il lavoro gente che non ha i soldi per arrivare a fine mese e noi andiamo e lei sta pensando già di iniziare a ricostruire in ucraina a mio parere è stata eletta per fare la per governare il nostro paese l'italia non per fare la servetta di altri paesi e andare spinta da questi paesi andare in ucraina ricostruire io ve lo dico onestamente bisogna pensare prima alla nostra terra all'italia ognuno faccia quello che gli pare intanto e alla fine ha ragione lei perché ha preso i voti ha preso i voti ha preso più voti degli altri e giusto e giustamente governa e io però non mi sento rappresentato se volete se volete l'onestà se volete l'ipocrisia cambiate pagina perché io non riesco a essere ipocrite in questi casi ci dico quello che penso in questo momento poi magari fra due anni e le darà ragione ma sempre se arriveremo a due anni perché stanno provocando in in modo esagerato e Putin ha minacciato l'atomica forse non hanno capito la mia preoccupazione è quella la mia preoccupazione è quella torniamo a mario giordano torniamo a mario giordano vi saluto vi do un bacio voglio sentire che ha da dire e fedez demolito pollicione se anche voi siete felici che della risposta che ha dato educata mario giordano che ha semplicemente raccontato quello che è fedez il vero fedez così l'abbiamo conosciuti conosciuto meglio tutti ciao a tutti buona serata